Good morning, good morning da Boris, sto poco 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 meglio, poco meglio sto, dopo che ho fatto una grande figura di merda, grande figura di merda, ma io ringrazio Gigino Camporota, un grande medico calabrese, sei calabrese, mi ha curato, mi ha curato e tutti i giorni quando mi vedeva, mi salutava e mi diceva Uga Bucoglia, Agistina no, io non so che cazzo significa, però ringrazio Gigino Camporota, ciao, salve da Boris, grazie, grazie, ciao